oh siamo carmen un secondo sono uscito e c'è partito è la maestra gemettine e via che hanno fatto vedere su quell'altra ragazzi loli merlin ma che dici? ma che dici? ma stavo sciolando prima su youtube c'è nulla no roscia mi fa piacere per favore merlin bambina regà dove? dove? no io smatto eh io smatto non avete fatto togliere la coria nel volo where is? merlin bambina merlin bambina merlin bambina merlin bambina e olee altro che gofer ma che figata ma è bellissima bellissima! ho scoppato la ultima, eccola! vabbè, sfena della polizia suprema! ma è figata! ma assurda! ma? ma? parecemente stata rottissima! ma avevo detto ceramelli in bambina io! altro che Gozer! 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 ma quale Gozer? è una matura che manca i suoi dell'anime tra poco! abbassa un po' il volume, boys! con due! si, ma che se ne frega di Gozer! nel caso che tu incide il secondo del banner! che a parte Anderson non te ne fai un cazzo di nessuno! ma non giochi mai! a cartolo per te chi lo gioca! eccola, eccola! regà! e vabbè, il fatto è che il verde Stonx è palesemente bellissima! ok, ok! sposto la cam ragazzi! ma come sposto la cam! scusatemi eh! se andiamo di qua! se andiamo di qua! se andiamo di qua! sì, 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 sì! oh! questa è una macchina di 74,000 euro! è una macchina di Samsung! 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 perfetto! 3 stelle! la macchina è bellissima! eh?! oh! ma non stanna però! cioè, fanno la remazione ma non stanna! tipo! Nick Scalto! cazzo per il loco! per il follo! no, le sud! no, cool! ieri ce l'hai proprio scritto che era una cosa in fase di sviluppo proprio! quindi è normale! questa è la Huawei, suppongo! è una Huawei questa! 50.000 euro! parla da 1 stella! non lo so! non lo so! non lo so! probabilmente potrebbe essere... Huawei, sì! ah! sì, l'ho sicuro! 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 fa danni, sì! quella da 1 stella ha fatto 50.000 su 1! la 3 stella fa 120 su tutti! cioè, è palese! sì, l'ho sicuro! sì, l'ho sicuro! sì, l'ho sicuro! poi non so cos'è quel 3 sotto 6 di auge! bisogna vedere! la skill 1 è uguale alla sicurezza anche di Sariel! oh, cazzo! oh, cazzo! avevo detto, sarebbe uscita Melden, ragazzi! l'avevo detto! questo è proprio! devo dire che solo è un po' di più! e anche lui è un po' di più! e lui è un po' di più! infatti, nel male che era support! se quello l'ho non ci ho accettato, è vero! il po' di più! questo è un po' di più! che catastrofe imminente 180.000 su un target quindi spongo se è stato qui la oh le skin no brutte brutte le skin no ma c'è quella di harry potter che è quella di harry potter ragazzi che è quella di harry potter questa fa schifo a posto questa è di harry potter palese ragazzi è palesemente per lei è palesemente per lei buc grazie per il follow è colpo nero ma cos'è sto lobo ma fighissimo ma ma spettacolo ma l'altro che fighissima ma bellissimo ma che figata è un orco demoniaco bellissimo bello è vero è il boy è vero è proprio scontato era ovvio esatto era ovvio chi diceva gother era palesemente no era palesi oh oh il nuovo skin e poi ha quella skin pirata di d1 eh skin pirata di d1 ragazzi escanon escanon escanor no no non penso shandler ci sarebbe shandler però se mi mettono shandler c'è me l'aspetto un po' come è stato con tarmelestariel nello stesso banner insieme shandler e kusa capite c'è proprio il duo nuovo come più due arcangeli e i due maestri demoni li vedete in questo modo seguendo un mood precedente logico anche per loro però ci potrebbe stare anche qua eh la version sullenare qua? la versione è un po' come qui? l'ho raccogl useful non è certo io vorrei vedere di mettere Gothel al posto di Merlin, di fare uno scrap su Escanor e scommetto perché volete che esplodino uno come contro Escanor io ci scommetto eh Jesus, quello è il vero problema di questo Merlin perchè si diceva che ci voleva support? perchè c'è Gothel verde che scombussola tutto ci voleva support, magari al pari di Gothel per dire ok c'è quello per l'altro come support invece qua no perchè non puoi giocare Gothel e Merlin insieme, o giochi Gothel rosso ma non ha senso per un meta attuale c'è di male che devi fai spadere Gothel turno 1, volendo, con una skill si chitta pure guarda ma non è iniziato per il Qu'è questo cosa? La mia macchina è assa di fare ocuptare ma non è ancora un problema qui a te faccio la scuola non è iniziato, faccio saperlo è iniziato si ma comunque si è giocato solo di mana, non so se ci state facendo carta, si è giocato solo di mana sposta una carta, ora ulta ma che cosa lo puoi stannare? che altre baffo no, no, è fast-buzz perché è cost-fest ragazzi tanto ne fa per una o due stelle su, vogliamo ti guardare una Merlin ulta, ulta guarda, questa è di One, Merlin non la gioca di One, Merlin, vabbè quando ci ha buttato su un mezzo team avversario però ho capito Cino però dai ho capito si 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 Sì, ti danno Pudono Pescele, quindi qua tantissimo, cioè dipende dalle situazioni. Oh, guardiamo sta ulti, forza! Guardiamo sta ulti. Guardiamo questa ulti. Skin di Gothel, vabbè, quello porta il gusto. Guardiamo sta ulti. Mi vengono a dire che anche Lost Vein avrebbe fatto uguale, cioè mi vengono a dire che anche Lost Vein avrebbe fatto lo stesso. Anzi, poteva fare di più Lost Vein. Vai sul Jap, guardiamoci questa ulti, ragazzi, poi andiamo sul Jap, dai. E fa lo scudo e va bene. Steph, ragazzi, per gli otto mesi e il pomeriggio, come stai? Grazie mille per il resab. Come stai, brother? Grazie davvero per gli otto mesi, otto mesi insieme, brother. Ragazzi, se sto sincero, a vederla così non mi sembra eccezionale. Ma si pulla lo stesso. Oh, ho visto che c'è il banner. C'è solo Merlin. C'è solo Merlin, ragazzi. Merlin e King a fine banner a scelta. 4% di SSR e nessuno retap. Visto che c'è il banner. Nessun personaggio nuovo. Ci poteva stare. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Non è stato una volta in retap. Non è da stupirsi che non ci sia manco qua. Cioè, nel senso, non c'è D1. Come è impossibile? È impossibile che non ci sia D1, ragazzi, dai. No, è impossibile che non c'è D1. Conclusione finale. Merlin ci sta. Se non c'è D1, non pull quasi un K. Fu pure la rima. Video tra poco su YouTube. Lasciate like. Pull la scompa di YouTube. Grazie a tutti per le sub. Grazie a tutti per il fondo. Scegliamo domani per la live. Pull. Vediamo quanto. Video domani. E video tra poco su YouTube. Grazie a tutti. Davvero. Facultato di Merlin. Ma il personaggio non mi sembra che. Sono sincero. E nulla eccezionale. Anzi. Secondo me non prenderà in posto di un gopher. Magari avrà un suo team. Ma non sarà al pari di D1. Nel livello di forza e di break meta. Questo ve lo posso proprio garantire secondo me. Attualmente parlando. Prima della sua effettiva uscita. Non mi è sembrata. Tutta sta grande. Potenza. Biblica. Cioè. Proprio. Anzi. Anzi. Ma comunque. Ce la facciamo. Andare bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi ci vediamo domani ancora live. Buona giornata. E niente. A domani. E tra poco su YouTube. Grazie a tutti. E let's go boys. E. A domani. Boys.